Che cos'è? Dove terrai l'audizione per la Julliard. Quello è il soffitto. Se lo guarderai ogni sera ti farà meno paura quando sarai lì. Avete presente quando incontrate qualcuno che è già la persona che è destinata a diventare? Quello era Adam. Io? Non proprio. Adam è arrivato! State attenti, ho sentito che il teatro dell'opera è un posto pericoloso. Perché ho la sensazione che stai per scombussolare la mia vita? Non puoi nasconderti in sala prove per sempre. È troppo tardi. Non mi sfuggi. Non è stupefacente come la vita vada in un certo modo e poi in un istante cambi tutto. All'improvviso. Mamma! Papà! Sto morendo. Ti svelo un segreto. Se vivrai o morirai dipenderà solo da te. Questa ragazza si sveglierà orfana. Se si sveglierà... Che cosa dovrei fare? A volte nella vita fai delle scelte. E a volte è la vita che sceglie per te. Ti piaccio di più così? Sono innamorato di te ora, come lo sono sempre stato. Hai ancora una famiglia. Perché io? La vita è un grosso, grasso, fetido casino. Ma il bello è anche questo. Ti aspetto e sono follemente innamorato di te. Ti prego, resta. Ti aspetto. Grazie a tutti.